Campionato di promozione Girone B Sicilia, campo Grotta Polifemo, partita tra Sacro Cuore Milazzo e Collesano. Le formazioni per il Sacro Cuore Milazzo con il numero 1 Catalfomi, il 2 Milone, il 3 Michalizzi, il 4 Flevi, il 5 Crisafulli, il 6 Adamo, il 7 Tranchita, l'8 Calderone, il 9 Torre, il 10 Famà, l'11 Mirod, il mister Mister D'Amico. Per il Collesano con il numero 1 Musumeci, il 2 Ciortino, il 3 Damiano, il 4 Pian Piano, il 5 Cilluzzo, il 6 Michalizzi, il 7 Di Matteo, l'8 Ingrao, il 9 Gagliano, il 10 Bellamco, l'11 Di Palma, allenatore Vestino, il 2 Di Gare, il 2 Maglia, il 3 Casano. Sulla fascia destra il cross in aria e di poco, di pochissimo la deviazione, poi tocca un pallone per Torre, Torre apre ancora per Franchita, Franchita da pochi passi e il pallone se ne va di pochissimo fuori sul secondo palo. Ancora Crisafulli, ancora Crisafulli, al limite dell'aria, cerca lo spazio per il tiro, poi c'è la conclusione e scuola. Crisafulli, Torre, conclusione parata, pronto al Ghebbi, il 3 Inari, il cross al centro, c'è Calderone, Calderone poi cerca lo spazio per il tiro, poi per il tempo, la conclusione e la parata, la parata e c'è il gol, il gol di Treba. Tranchita, Tranchita, ha segnato Tranchita, 1 a 0 per il Stagocore di Milano. Era in comitiva appunto, ripartito intanto, in compagnia con il Stagocore, Correnti, messa a terra, ora Michelezzi, il cross a un pallone in aria, il colpo di testa e c'è il gol di Torre, prendito stacco di testa di Torre che porta raddoppia per il Stagocore di Milano, 2 a 0. Correnti, direttamente in aria, sottoporta e c'è questa volta la parata, Correnti, Correnti questa volta, scaraventa il pallone in aria e c'è quasi un gol, ma una parata miracolosa di Musumeci. La conclusione a tiro a sorpresa, un po' corto per Torre, Torre, triangolo ancora con Tranchita, Tranchita, numero sec, Formica, Formica, la botta di Formica, l'appoggia un compagno in aria, Crisafulli tira direttamente in poca e poi c'è la deviazione, Crisafulli fa un assist. 2 a 1, ecco qua il semplice fischio dell'arbitro di Maglia di Catania che conclude l'incontro così, risultato 2 a 1 per il Stagocore di Milano. Grazie a tutti.